ue ragazzi benvenuti oddio in questo nuovo video partito così random molto velocemente morto posso su vortex online bello stupendo come gioco è finita la partita perfetto siamo in compagnia di kira e taghi credo non lo so se sono ancora online ci siete perfetto chi è ca un cittone chiara agia no agia l'ho ucciso guardate l'esce pure scritto kira kill ed gespo vaffanmok ok andiamo a uccidere a kira kira eccola aiuto ho fatto kill assist va bene comunque niente è un gioco molto strano dobbiamo solamente ucciderci punto niente di che comunque questo gioco l'ha trovato kira è chi poteva trovare mai un gioco così vero kira no chi era di nuovo ma che diavolo non è possibile ma non so come si cambia la rotellina no va buo stupendo ecco deve pure caricare stupendo ok vieni qua chiara via che mo ti butta la bomba in faccia taki non ci credo ti ho buttato una bomba in faccia non si è morto ah ahia oh 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 chi è questo chi è chi la scommetto guarda eh no no ok double kill ho fatto double kill però mi ucciso mannaggia a te mannaggia anche tu mi ha ucciso no ah si si ci siamo uccisi a vicenda si uh uh bordello chi è quello perché bianco chi è bianco chi è questo no l'ho ucciso o abbiamo vinto cioè il blu hanno vinto no vabbò quanto è stupendo c'è il cappellino cos'è oh chi ragia chi è questo è un altro da me ma che merda è io li odio ma perché stai contro tutti sono morto ma che cazzo ha la tua arma c'ho un cecchino c'ho un cecchino ma perché io c'ho proprio aiuto eh scappi eh no taki bastardio ma con quel vestito mi sembra un pedofilo cos'è che gioco del cavolo siamo dei mini pedofili guardaci seconda io faccio un po schifo dai ma non voglio fare il deathmatch non si può cambiare oh squadra siamo in squadra insieme già spugnato a chi che c***o uccidete a questo ci ha fatto a tutti ok ucciso ci so mi ha ucciso pure lui vaffanbocca votare a vero team deathmatch rocket war rocket war ok proviamo rocket work l'ho ucciso no non l'ho ucidio ma dottola ciao l'ho ucciso mi ha ucciso a me me bazzardo bannaggia a te bannaggia si mi ha ucciso tu come lo sai venite chi uccido? in testa ti ho letto aia 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 Kira no Kira no ma fa bocca ma fa bocca ma fa bocca ma ma fa bocca ma bannaggia Kira mannaggia sì ma sto facendo cagare sto a quarto posto si nasconde la dietro nel Vigoletto. Taki, vaffammocca, Taki. Aiuto, aiuto, no, no, salta un poco, saltiamo, non lo so a che serve, ma saltiamo. Cazzo. Ue, 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 saltiamo. Aiuto. Kira, oddio, l'ho ucciso, eri tu. Quella Kira, oh, sotto, sotto. Mi spacco il culo, Kira. Eh, mi devo spacco qui a te il culo, vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Eh, oh, eh, te lo meriti. Guarda là, primo posto, Kira, oh. Ma che ti sei messo in testa? Oh, Gespo, quarto posto. Ma sto facendo tante uccisioni, com'è Gespo? Perché devi andare nella base nemica. Ah, vero. Oddio, vero, devo andare qua? Beh, allora sì, è facile. Ah, quindi lo scopo è andare, appunto, nella parte avversaria, qui, e fare tipo goal, tra virgolette. L'abbiamo capito a fine video. Stupendo. 100 punti. Kira, ucciso. Taki, ucciso. Ah no, non ho ucciso Taki, mannaggia. 3. C'è pure un pedofile davanti a me. Kira difende la sua zona, attenzione. Con i denti. Oh, victory. Oh, sì, ho vinto. Ho vinto. Facciamo l'ultima, la Duck Hunt. Cos'è Duck Hunt? Ok, l'ultima, dai. Cos'è? Oh, che carino. Oddio. Non ci credo. No, dobbiamo scappare. Non dobbiamo farci, non dobbiamo farci uccidere dai cacciatori. No, vabbè, stupendo. Victory. Victory. Abbiamo vinto. Loot create. Ok, vediamo questo. Enter game. Cosa dobbiamo fare? È la stessa roba del primo? Dobbiamo andare al centro, forse, qua. Oh, porca rospa. Cos'è? Uh, uh, uh. Chi è? Lo faccio io. Chi è? Cos'è questo? Chi è? Ok. L'abbiamo ucciso. E mo? Uh, chi è quest'altro? Uh, uh, uh. Lagga, lagga, sta bestia. Sto cornuto, guardalo. Uh, dove sto andando? Ok, c'è una cosa gialla. Eccola. Uh, 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 uh. Uccidetelo. Ok. Prendete, prendete. Loot collect. Perfetto. Difendetemi, ragazzi. Eh, da chi? Non ci sta nessuno. Sono io, tranquillo, Kira. Non mi spara addosso. Ok. Victory. Victory, apposta. Così. Abbiamo vinto. Bene, ragazzi. Spero che questo video random, così tanto per perdere un po' di tempo, vi sia piaciuto. Ricordatevi di seguirmi su Facebook, Instagram e di entrata in gruppo Telegram. Io, Kira e Tag, vi salutiamo. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vi do scemo. La famocca. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.